ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale guardate oggi che cosa vi porto vi porto la lanciadetta hf integrale c'è scritto costruisci la legenda del rally aspettate che ve lo metto un pelino su e niente questo è un bel modellino da collezione e l'avevano già fatta l'avevano già proposta a chat costa 2 euro come potete notare abbiamo i primi componenti del coforo motore e le cringhe del coforo allora io questa non la farò però me la non possiamo e renderò fino al terzo numero in edicola e adesso andiamo a vedere a breve il di dietro e faccio questo video qua speciale perché praticamente mi hanno consigliato di portare novità ogni giorno a parte la prossima settimana che il venerdì porterò a roma quindi dopo sabato e domenica e lunedì non posso dire che si ritorna sul canale dopo martedì successivamente quindi andiamo a vedere il di dietro che avete messo in costanza così vi potete vedere adesso ci sistemiamo miglio e andiamo a vedere il di dietro miglio allora questa è la lancia delta qua abbiamo costruito il tavolavoro da esposizione faccicolo e abbiamo tra due settimane la seconda uscita come potete notare abbiamo un sedile e 6 euro poi questa analisi sinistra e questa analisi d'altro allora il modellino si completa in 7 uscite e la prima uscita e ci abbiamo dato 2 euro come vi ho già detto prima e niente quindi io porterò tutte le novità in questi giorni qua speciali quindi oggi domani e dopo domani no perché festa e dopo si riprende martedì allora la collezione si compone da 100 uscite come vi ho detto 2 euro la prima e la seconda 6 euro e dalla terza in poi 12 euro vi volevo dire che ho già avvisato l'edicola oggi e di tenermi da parte tutto il terminito che lo faccio in edicola come ben sapete adesso andiamo a vedere un attimo i fascicoli tutto il contenuto poi andiamo a vedere anche nel sito della chat come si presenta il modellino per abbonarsi abbonarvi se vi volete abbonare andiamo a vederlo allora che cosa abbiamo qua abbiamo la guida all'opera vediamo subito la guida all'opera sali a bordo del mito la leggenda e rivivi la leggenda lancia delta hf integrale scala 1.8 effetti sonori luminosi allora da quello che ho capito e visto fa i suoni del motore e suono classon accensione luci e stop è bella è molto carina io l'ho vista completa ed è veramente spettacolare è da rally come mi piacciono ormai le macchine però sempre macchine anche no dimensioni modello 48 x 22 x 17 cm ha un motore e parti meccaniche ispezionabili sedile ergonomici da rally e diversi dettagli come potete notare comunque faccio già la skyline quindi non potevo non cioè non potevo non farla e quindi ho preferito fare quella poi dopo un po è uscita anche questa ma non ritenevo opportuna farla e quindi niente ecco perché non la faccio è bella è per carità è bella se la volete fare vi potete abbonare o fare in edicola decidete voi e io vi consiglio di fare l'abbonamento perché già dei vantaggi e di gadget molto belli molto carini però vedete voi poi fate voi la vostra scelta sui modellini che vi sto facendo vedere io sto facendo vedere questi modellini qua ma tutti non li posso portare questi li porto fino alla terza uscita però gli altri che mi sono abbonato fatto in edicola cioè farò in edicola come terminator e quelli li porto tutti che sono troppo belli allora e poi sono diversi allora qua abbiamo tutte le caratteristiche della macchina come si presenta come potete notare e non ci soffermiamo più di tanto vediamo i regali aggiuntivi con l'abbonamento che dopo vediamo meglio e dal sito qua abbiamo la mia coppia come sempre qua abbiamo l'offerta dell'abbonamento quindi abbiamo 1 e numero 2 perché vi spediscono da solo perché abbiamo già il numero 1 e a 6 euro e numero 3 4 e 5 e qua non c'è scritto il prezzo comunque molto carini e nel terzo abbiamo una ruota nel quarto abbiamo anche cacciavite nella quinta abbiamo anche l'altro sedile però e qua c'è tutto il modulo e tutto quanto tutte le informazioni plausibili trovate anche sul sito allora questo è il fascicolo della lancia delta abbiamo nella prossima uscita sedile il pilota e quattro fare come vi dicevo quindi si si prospetta qua a fianco e praticamente vi fanno vedere le anteprime della prossima uscita dei componenti e poi abbiamo dai mostri del gruppo b alle tranquille gruppo a molto bella vedete qua abbiamo tutte le immagini io non posso poi fare tutto e portare tutto va bene tutto quanto però devo 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 decidere bene su quali modellini fare e ho già fatto la mia scelta e niente le faccio già 5 quindi non ne convenia farlo un sasto e a montecarlo si costruisce il mito della lancia nei rally qua non ci soffermiamo più di tanto è che è fascicolo da leggere tutte le informazioni plausibili e non ci interessa a noi perché ci interessa il montaggio poi va va munari e biasion e guidano una parata di campioni poi vedete qua abbiamo il montaggio della nostra e delta integrale quindi abbiamo tutti i passaggi ma dobbiamo mettere solo due griglie qua e basta cioè non è niente di così importante quindi non lo vado neanche a montare anche per partita di tempo vi faccio solo vedere i componenti nella fustella per motivi anche di tempo non vado a montarli molto bello il cofano che è in metallo adesso volevo farvi vedere un attimo se riusciamo a non fare danni ad aprire la fustella dei componenti e farvi vedere il cofano che vi fa vedere che è in metallo veramente allora prendiamo un cacciavite metallo ragazzi bellissimo bello 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 mi piace e dobbiamo mettere queste due calandre ma comunque adesso siccome li tengo da parte questi componenti qua e poi al limite li posso anche vendere ma non so neanche se conviene e vendere la prima uscita ecco però magari a uno di voi si allora mettiamolo qua lo mettiamo a posto e adesso andiamo a vederci e per abbonarvi al sito quindi vediamo un attimo i i vantaggi ecco andiamo vederlo allora allora ragazzi siamo qua sul sito vedete qua abbiamo costruisci la regina la leggenda dei rally abbiamo le caratteristiche e allestimento abitacolo strumentazione come vi ho detto prima un po e poi abbiamo la collezione se andiamo a vedere l'offerta vedete abbiamo l'uscita qua abbiamo già detto e però qua sono incontenenti i pacchi dopo riceveremo quattro uscite dalla collezione solo la seconda spedizione avrà composte tre uscite e mentre dopo saranno composte da due uscite quindi uscita sei sette otto nove e dieci undici dopo ritorna a quattro a quattro uscite lo so perché sto facendo anche la bat mobile diversi modellini che arriveranno a breve sul canale di nuovo allora qua abbiamo la storia qua se paghiamo con la carta di credito e paypal ci danno questo notebook che oh non lo ritengo opportuno ma poi fate voi dettagli e raccoglitore per i fascicoli quindi ci danno il raccoglitore per i fascicoli come regalo ovviamente dovete pagare in più mi sa però boh non lo so e c'è scritto il portachiavi personalizzato il cappellino con logo martini racing molto bello molto carino il borsone weekend personalizzato martini e poi basta quindi se scegliamo di pagare invece con l'offerta premium anche qua con un euro e cinquanta in più a partire dalla numero sei ci danno la teca per conservare il modellino al meglio scala 1.8 e la macchina è 1.43 molto carino molto bello vedete il primo in via ci danno i primi due componenti e se vi abbonate dalla prima uscita poi vi potete abbonare ho visto con tutte le collezioni di e lasciate non vi ho detto l'altra volta con terminator cioè ieri con terminator vi potete abbonare dal numero tre cioè fino al numero tre quindi se voi volete farlo dal numero tre potete benissimo e niente qua abbiamo che per la dicità alla collezione non ci interessa comunque sono tutte le informazioni che potete trovare nel sito lasciato quindi io vi lascio i link in descrizione e ritorniamo e adesso al video ma prima di andare al video vedete vi voglio far vedere questa cosa che vi potete abbonare o dal numero due o dal numero tre se andiamo a vedere il numero tre ci danno 3 4 e 5 a 23 98 tensione quindi costano così le uscite che vi dicevo prima che non ce le ho scritte bene ritorniamo al video normale ed eccoci qua di nuovo con la lancia delta martini ma adesso senza perderci tempo andiamo a vedere un'altra fantastica collezione quindi una sorpresa per proseguire le nuove collezioni dai andiamo a vedere che cosa si tratta andiamo a farla allora vi porto un'altra fantastica collezione pen house si parla allora questo costa 13 euro e se lo volete trovare ancora affrettatevi in edicola sempre e abbiamo la prima uscita con buon natale snuppi un po indietro l'ho recuperato ieri questo qua ho trovato per giunta la coppa non l'ho trovato in edicola più poster in regalo quindi 13 euro e per questo personaggio qua mi sembrano un po elevati e per un poster del cavolo secondo me comunque se vi piace snuppi e il mondo di snuppi io vi consiglio questa collezione io ripeto sto portando questi modellini qua o collezioni perché poi valutate voi che cosa fare o meno quindi decidete voi allora questo non c'è il sito non c'è niente però è con sorrisi e tv andiamo ad aprirlo c'è qua con il personaggio di snuppi bellissimo cioè carino fatto bene niente da dire molto carino molto bello si prospetta bene anche qua la codiglina niente da dire veramente bello penhouse poi si chiama allora questo invece che avevamo come sfondo bellissimo perché se uno porta i video di penhouse mette questo come sfondo ed è tanta roba spacca quindi vi ho già dato un consiglio per fare grandi passi su youtube per dire i dettagli questo va benissimo fa vala figura altro che questo è un poster semplicemente lo potete appendere nella vostra cameretta per i bambini poi allora questo ma anche per gli adulti cioè per chi è collezionista non vi ho detto una cosa quanti siti sono adesso comunque voglio far vedere meglio nello specifico allora intanto se prendiamo il cartoncino che ci hanno dato questo foglio qua e non c'è scritto a è composta da 30 uscita come potete notare e la prima uscita ci avevano dato 13 euro dalla tasse in no dalla seconda in poi una roba del genere 14 49 da quello quello che ho capito allora qua di dietro ve lo metto meglio qua nel dettaglio sul tavolo allora da quello qua ci sono tutti i componenti cioè tutti i personaggi qualche personaggio poi fino al 10 di sloopy vedete qua abbiamo il 3 che esce l'altro il 3 esce l'altro il 16 l'altro e così comunque potete stoppare e leggerli meglio ve li metto qua qua a fianco e tanti altri c'è scritto poi nella seconda uscita abbiamo snoopy e charlie brown dal 3 gennaio in edicola e se ci abboniamo vi stavo dicendo c'è anche l'abbonamento che non sapevo se ci abboniamo alla raccolta avremo io questo lo vendo tanto 13 euro si può vendere che io non me ne faccio nulla quindi se lo volete contattatemi in privato su instagram che vi lascio sempre le pagine su instagram nel quando faccio il video lo metto nella descrizione del video allora snoopy con charlie brown e linus con coperta a soli 9 euro e 90 e 30 statuette in 3d quindi potete abbonarvi con il cedola ordine bene spediti in posta e siete già apposta queste sono tutte le uscite bellissimo quindi se volete stoppare e leggere con calma tutte le uscite potete e niente io direi che ho detto tutto quindi io direi che ho detto tutto e niente ci salutiamo sennò il video diventerebbe troppo lungo quindi se vi volete abbonare a questa fantastica lancia delta e correte sul sito chat se invece vi volete abbonare a snoopy a pen house avete la cedola ordine quando prendete il primo invio che lo trovate in edicola quindi io vi aspetto domani con un fantastico video quindi mettete un bel mi piace andiamo a vedere l'anteprima del prossimo video quindi commentate iscrivete se non avete ancora fatto e questo è tutto da super games modellista 00 ciao ciao al prossimo video mi raccomando non mancate a domani ciao allora eccoci qua con un'altra fantastica collezione e i miei piccoli amici della wall disney